I fischi ce li prendiamo tutti perché è giusto e se abbiamo tante aspettative e se hanno tante aspettative nei nostri confronti evidentemente ci riconoscono qualità e si aspettano di più e quindi questo ci deve inorgogliere segno che ci sia intorno a noi un grande entusiasmo, un grande stima, grande voglia di condividere qualcosa di importante quindi non deve essere assolutamente per noi un motivo limitante, anzi uno stimolo a cercare di rendere felici i nostri tifosi significherà aver fatto le cose che tutti si aspettano da noi e quindi aver fatto il nostro dovere ad oggi purtroppo siamo stati forti a sprazzi e questo sprazzi purtroppo non basta quando siamo riusciti ad esserlo per gran parte della gara, la maggior parte della volta siamo riusciti anche a portare via punti pesanti quando non lo siamo stati purtroppo abbiamo perso e devo dire purtroppo perché le nostre sconfitte ci demoralizzano da una parte ma tranne quella di Pescara sono state tutte partite dove se andiamo a vedere tutti gli episodi veramente abbiamo fatto tutto noi cioè ci sono i numeri che non mentono per me, i numeri dicono noi siamo uno dei migliori attacchi segniamo, non so se siamo l'unica squadra o una delle poche squadre che ha segnato forse col Brescia in tutte le gare però se manca una squadra che ha delle ambizioni ha subito 13 gol 1,4 a partita, sono medie non da squadra che vuole arrivare fino in fondo quindi quell'ignoranza, quella cattiveria di non voler prendere gol di sapere anche difendere il vantaggio perché noi non è possibile che andiamo 2-0 con la Cremonese e li facciamo rientrare in partita 2-0 a Venezia li facciamo rientrare, 3-1 e li facciamo rientrare col Foggia in vantaggio li facciamo rientrare, con l'Ascoli in vantaggio li facciamo rientrare cioè noi dobbiamo dare una sensazione che le squadre quando vanno sotto la partita è finita non ci riprenderanno mai perché una squadra forte dà questo messaggio le aspettative più grandi ce le ho io perché a differenza poi dei nostri tifosi e degli addetti al lavoro che conoscono questi ragazzi per quei 90 minuti che vedono la partita io li conosco molto di più e quindi li vedo lavorare tutti i giorni e so qual è il potenziale di ognuno di loro e so qual è il potenziale di questa squadra di quando gioca da squadra vera allora bisogna trovare quella voglia di giocare da squadra vera sempre non che manchi ma dobbiamo violentarci da questo punto di vista andare oltre qualche limite gioca Montipò ma gioca Montipò a prescindere io avevo già deciso di avvicendare il portiere dopo la gara di Pescara purtroppo abbiamo perso e non mi sembrava corretto perché sarebbe stata vissuta come un addossare delle colpe a Pugioni quando non ne ha perché Pugioni non è il responsabile Pugioni è un calciatore come tutti gli altri calciatori ha vissuto queste 11 partite due di Coppa e nove di campionato con gli alti e bassi di tutta la squadra perché non c'è un giocatore che ha giocato con continuità non c'è mai stata continuità né di squadra né dei singoli Pugioni ha fatto quello che doveva fare è un leader importante di questo gruppo continuerà ad esserlo e quindi semplicemente ho voglia di vedere Montipò in campo con grande serenità sono sicuro che lo farà molto bene e a prescindere se dovesse sbagliare non fa niente perché l'errore si permette a tutti ovvio speriamo che non ne faccia ma deve scendere in campo con quello che ha con la sua personalità con le sue caratteristiche con la tranquillità di sapere che l'errore tecnico fa parte di questo mestiere e a volte anche a male in cuore però lo dobbiamo accettare quindi grande serenità è un portiere del grande futuro e sicuramente ce lo farà vedere però a questo aggiungo un'altra cosa che lì poi entriamo nell'individuale perché quando arrivi come è successo con l'Ascoli 11 corner 30 traversoni 40 minuti al di là dello spezzettamento esagerato del gioco ma sono stati praticamente sempre e solo negli ultimi 30 metri io da lì mi aspetto anche di vedere il guizzo del singolo cioè la giocata del singolo non si può sempre giocare solo schematizzato se no diventi veramente troppo prevedibile mi aspetto che qualcuno rischi un dribbling si prova un tiro da fuori aria anche dai 25-30 metri li abbiamo i tiratori abbiamo i giocatori abbinere uno contro uno e questo io lo voglio vedere lo esigo dalla mia squadra perché quando si dice il carattere io come allenatore mi sento mi sento morire e vorrei che questo appartenesse anche a questo gruppo cioè fossi un calciatore del Benevento oggi io mi sentirei un leone in gabbia cioè non vedrei l'ora di giocare per dimostrare che tutto posso avere ma non problemi caratteriali perché io so cosa voglio e lo voglio io preferisco avere dei difensori che fanno bene i difensori quindi sono contentissimo dei giocatori co e secondo me hanno anche delle buone qualità tecniche per poter far partire l'azione non devono fare rifiniture, scavini io credo che di bonucci ce ne siano pochissimi al mondo quindi teniamoci stretti quelli che abbiamo dico che a volte la nostra circolazione è vista come un po' macchinosa ma perché gli altri si chiudono quindi inevitabilmente quando arrivi da una parte e non trovi sbocco è inutile forzare per perdere palla e ricominci quindi questo magari giropalla continuo sembra ristagnante sembra poco fluido io ieri sera ho visto la partita della Juventus credo che abbiano delle qualità indubbiamente superiori a tutte le altre squadre in Italia e purtroppo contro il Manchester che si difendeva tante volte quando trovi squadre chiuse è normale che è il colpo del singolo il singolo che si inventa un dribbling e allora lì crea la superiorità numerica se no è troppo facile difendersi con una squadra che fa bene il compitino arriva lì fa il suo cross e io sto schierato devo creare dei disagi noi l'abbiamo fatto benissimo secondo me a Venezia l'abbiamo fatto benissimo con la Salernitana in altre partite non l'abbiamo fatto bene condizionati anche da una cosa da risultato perché noi non abbiamo mai rimontato tranne la partita con Lecce non abbiamo mai rimontato quando noi siamo andati sotto ci crolla il mondo ecco finita perché noi sappiamo fare no io lì voglio una squadra che dice no arriviamo sulla tre quarti che adesso ci penso io anche quel sano egoismo del giocatore che dice la partita io la voglio determinare oggi voglio essere io che vado sotto la curva togliermi la maglia per festeggiare questo deve far parte dello spirito di ogni singolo giocatore quello che deve caratterizzare la fame la voglia di dire io vado sempre oltre quello che posso dare devo far di più voglio di più ma il Palermo nonostante nelle ultime partite ha fatto sempre risultato lo ha fatto più di rabbia più di fame perché nelle ultime cinque giornate ha fatto credo sette gol dal novantesimo in poi no è lì che dico io deve venire fuori quel fuoco che hai dentro di non accettare il pareggio di non accettare la sconfitta io non perdo mai io non perdo mai cioè se le squadre che ci affrontano sono fortunate devono dire oggi pareggio perché di fronte a una squadra che ha la cattiveria di dire io la partita male che fa la pareggio e questo ti dà la continuità di dire sono forte sono forte sono forte sono forte sono forte e vincere 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 aiuta a vincere se no poi ti abitui che fai tre vittorie poi uno la perdi vabbè ma è una sconfitta no la sconfitta no non esiste non esiste io quando perdo tre giorni non verrei al campo perché ogni cosa mi parla della sconfitta non perché ci dormirei io al campo per l'amore che ho per questo sport ma la sconfitta mi fa proprio male anche quando è immeritata anche quando sai di aver fatto una partita nettamente migliore dell'avversario però è una sconfitta e questo è quello che mi dà l'essenza di allenare quello di trasmettere questo ai miei giocatori di non accettare mai quello che accade ma di volerla fare la determino io il mio campionato lo determino io non lascio che siano gli altri determinati quello che accadrà la partita io la comando io anche quando mi devo difendere la comando io anche quando devo soffrire va bene però sono io non voglio avere rimpianti e questo è quello che deve avere la squadra non dovrà avere rimpianti